Sostenibilità in Comune nasce nel maggio del 2017, un impegno concreto che il GSE si è dotato per la pubblica amministrazione e per i comuni italiani. Un progetto patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a dichiarare quanto questa sia un'opportunità per gli enti locali che molto spesso non hanno risorse con le quali poter portare avanti i propri progetti in ottica di sviluppo sostenibile. Noi abbiamo deciso di scendere sul territorio e andare ad aiutare, sensibilizzare, promuovere tutti i possibili progetti, i possibili meccanismi di incentivazione che abbiamo e che quotidianamente gestiamo. Il conto termico è sicuramente una delle opportunità più grandi che i sindaci hanno per poter riqualificare il proprio patrimonio edilizio. Le scuole in primis sono una importante realtà che può essere riqualificata in conto termico con dei contributi a fondo perduto.